Simone raccontaci un po' di quanto andavi a pescare le patelle serrugine. Parliamo di 50 anni fa, ultimamente di quel tipo lì non abbiamo più visto, noi le chiamavamo rugiaine perché erano tutte piene di muschio sopra e a volte bisognava stare attenta a distinguere nelle scogli quando le prendete il loro arancione, erano piuttosto spesse. Ora ultimamente non siamo più andati in quelle zone lì a cercarle perché allora le prendevamo forse perché avevamo anche fame. E oggi ne avete più visto? Non l'abbiamo più cercate perché le prendevamo più nelle zone diciamo dalla spiaggia in su verso Punta Chiappa, e dove sono gli scogli con lo muschio e noi non so se ruggiaine perché hanno la ruggine o perché hanno questo muschio sopra, va bene. E le mangiavate? Sì, come le mangiavamo allora perché c'era più fabbrica adesso. Ma erano buone? Sì, molto buone. Grazie. 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 Grazie.